Vai, 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 dove siamo? In Spagna. Cosa mangiamo in Spagna? La paella. Mamma mia, chi è che l'ha mangiata questa che manca? L'hai mangiata a te? No, no, io no. Bueno, tra io e lui no. No, no. Ascolta, spiegaci un po' come l'hai fatta. La paella si fa il soffritto di pesce, verdura, dopo si riposa l'acqua, e dopo l'acqua si riposa il riso, se ne resta la cottura e è fatta. Quanto tempo deve riposare il riso? Dopo l'acqua, uno, dieci, otto minuti. Ok, quindi allora tu porti il pesce, le cozze, noi a Vercelli mettiamo il riso, giusto? Va bene? Bene. Così possiamo fare il gemellaggio? Ah, non so. Il riso che portiamo noi è tutto spagnolo, tutto meno il pesce che sì che lo dobbiamo comprare qua, però il riso, le spezie, tutto, portiamo di là. Eh, ragazzi, c'è un profumo qua pazzesco, ascolta, però io ho visto un'altra cosa qua, la sangria, che la sta preparando lui. Andiamo a vedere? Abbiamo visto la paella, giustamente non può mancare la sangria. Allora, chi l'ha preparata questa sangria? Io. Ci spieghi un po'? È praticamente un misto tra frutta, aranciata, vino, un misto di vodka e mella. Mi ascolta, ma se io voglio assaggiarla, porto via tutto? Eh, dipende dalla voglia che ha. E quanto tempo la lasci la frutta dentro? Ma, nel momento che si fa la sangria, poi si mette la frutta e finché si vende la frutta rimane dentro, per assorbire di più l'acidità del vino. Ha capito? Quindi il segreto c'è, eh. altrimenti come fai ad essere buona? Ti ringrazio, ciao!